Il primo possesso per il Tottenham, in tenuta bianca, attaccherà da destra verso sinistra. Barriera 2, schierata da Carbone, poco fa, chiamato in causa, ha risposto bene il numero 1 del Tottenham. Fischia adesso l'arbitro, Dovidio, prova con il mancino, una deviazione, pallone che termina in rete, allora si porta in avanti il Bordeaux. Un gol erocambolesco, ma comunque meritato per quanto visto finora. Può ripartire il Tottenham, Ucherani ha spazio per avanzare il numero 4, ritorna Nello ad arma forte, ancora Ucherani! È un gol pazzesco del numero 4, che aguanta il pareggio con eleganza, e allora 1-1 pareggia il Bordeaux, ma che perla questa che ci ha regalato Ucherani. Spazio in mezzo al campo per avanzare, ancora Nello, costretto a fermarsi, allarga bene a destra, dove c'è Dovidio, riceve il pallone, la mette in mezzo in questo momento e ritrova il vantaggio il Bordeaux. Il tiro cross di Dovidio ha sorpreso Carbone, ha gonfiato la rete, allora ritorna in avanti il Bordeaux, 2-1 adesso allo Stella Azzurra. Si riparte con il secondo tempo Tottenham, ma di inseguire lo svantaggio, vediamo, sarà in grado di compiere l'impresa. Il solito Gallo a tirare direttamente dalla rimessa in gioco. Fischia adesso il direttore di gara, prende la mira Gallo, va adesso con il mancino, attenzione, impegna i pugni di Santi. Fischia ora il direttore di gara, la rincorsa di La Rosa, va adesso La Rosa, un gol bellissimo del numero 5, e allora allunga le distanze il Bordeaux con l'esecuzione splendida di La Rosa, 3-1. Può ripartire a Polloni, c'è spazio per lui, è sbilanciato il Tottenham, ancora Polloni, va direttamente alla conclusione morbida, con un po' di difficoltà poi la palla rimane lì. E arriva anche il 4-1 del Bordeaux, ma davvero da dimenticare questo intervento di Carbone. Un po' di insicurezza, poi è arrivato in tutta velocità Borsi e l'ha messa alle sue spalle. 4-1 per Bordeaux, tutta tranquillità, il numero 2, grande esperienza, lascia per Borsi che riesce a girarsi, ancora lui, larga a sinistra, ancora il tiro cross a Polloni e tutto solo, firma la sua doppietta per il 6-1. Ma qui un'altra ingenuità della retroguardia del Tottenham. Posizione defilata, Piccolo sul pallone, fischia ora il direttore di gara, va Piccolo con la conclusione, un gol bellissimo questo di Piccolo, che accorcia le distanze, 6-2 adesso, ma il tempo non è sicuramente dalla parte del Tottenham. Attenzione al contropiede del Bordeaux, ancora da Polloni, cerca lo spazio per la conclusione, da Polloni e la tripletta bellissima del numero 7, 7-2 in questo momento, ma davvero un altro gol splendido. Destro potente di Polloni non lascia scampo a Carbone, ora sono 5 gol di distanza fra il Bordeaux e il Tottenham. Attenzione alla percussione di Borsi che sbaglia, può regolare Piccolo, che va alla conclusione, arriva il 7-3 di Piccolo, in tutta scioltezza, al limite dell'aria, l'ha messa nell'angolino, ma sono ancora 4 i gol di distanza per Polloni. Adesso è sbilanciato il Tottenham, va Colizia, rimette in mezzo, attenzione a Pasquali che liscia il controllo, ancora Polloni, si ferma, poi ancora Polloni, 4 gol del numero 7, ma davvero una prestazione memorabile. E arriva così, quindi anche l'8-3 del Bordeaux, ma che prestazione di Polloni! 8-3, ormai davvero buia la situazione per il Tottenham, e infatti termina adesso l'incontro. 8-3 per il Bordeaux che ha dato l'ennesima grande dimostrazione. Nulla da fare per il Tottenham che prepara rifarsi nella prossima giornata. Abbiamo molta voglia di giocare, tutti quanti, visto che la scorsa volta la squadra avversaria per motivi, non lo so, loro non si è potuta presentare, quindi abbiamo saltato una settimana di gioco, quindi siamo arrivati molto carichi a questa partita. E che dì, vabbè, la prestazione della squadra, abbiamo giocato molto bene, anche l'avversario è una buonissima squadra, che sicuramente andrà lontano. Niente, è un gruppo fantastico, come dire. Anche se ho partito dalla panchina ci sta tutto, sono contento lo stesso. Sono stato al secondo tempo, ho fatto 4 gol, sono contento soprattutto che fa parte di questo gruppo, che è davvero un grandissimo gruppo.